Ragazzi forse per la prima volta sta per arrivare un mega aggiornamento su Brawl Stars che potrebbe andare a risolvere tutti i vari problemi che ci sono in questo momento all'interno del gioco L'aggiornamento arriverà oggi, io ci farò la reazione sempre oggi ma voi la vedrete probabilmente domani perché il Brawl Talk ci sarà alle 17 quindi non ho il tempo materiale per andarvi a editare il video e poi caricarvelo nella stessa giornata Quindi purtroppo ragazzi vedrete il mio video domani ma oggi ragazzi andremo ad aprire la prima cassa Omega ovvero la nuova chest di Brawl Stars che dovrebbe veramente essere una figata unica Andiamo all'interno del game e vediamo che cosa hanno aggiunto Ci siamo signori, siamo all'interno di Brawl Stars, allora siamo nel mio account, innanzitutto vi voglio dire ragazzi di lasciare un bel like a questo video Perché come voi ben saprete sicuramente, ve l'ho detto già in molti altri video e in molti altri live, sto registrando in questo periodo con l'influenza Infatti è da molto che non vado da scuola purtroppo perché appunto ho questi problemi di influenza Voi adesso non mi sentite molto bene perché sto parlando abbastanza piano ma vi assicuro che se parlassi normalmente inizierei a tossire come un matto ve lo giuro Poi ho anche il raffreddore, insomma non sto benissimo in questo periodo quindi proprio per questo vi chiedo un bel like a questo video di supporto Allora signori, siamo qui per andare ad aprire la nostra primissima cassa Omega Le casse Omega ragazzi sono delle nuove chest che andranno a sostituire tutte le altre chest che abbiamo visto fino ad ora all'interno del gioco Ovvero le casse Brawl, le casse enormi e le Megabox Appunto, perché andranno tolte ragazzi? Perché adesso le probabilità di trovare un Brawler verranno eliminate totalmente Quindi non succederà più che noi apriamo una chest e speriamo che esca il Brawler Adesso lo troveremo sicuramente e probabilmente all'interno di queste chest Perché ci stanno regalando tutte queste cose ragazzi? Perché hanno avviato un contest che permetteva in base a quante eliminazioni andavamo a fare Di andare ad aggiungere delle nuove cose all'interno dello shop Finora siamo arrivati a 3 miliardi di eliminazioni che se non sbaglio tra l'altro è il massimo Quindi appunto ci hanno regalato una cassa Omega prima di questo aggiornamento L'aggiornamento appunto arriverà nella giornata di oggi Forse quando voi state vedendo questo video già è stato linkato il Brawl Talk e forse deve ancora uscire In ogni caso comunque oggi è il giorno in cui verrà linkato Quindi signori siamo qui innanzitutto per aprire tutte queste varie cose Iniziamo direi dalle cose un pochino meno interessanti ovvero l'icona che comunque non ci dispiace Abbiamo il Graffito che non ci dispiace neanche quello e anche la reazione Ora passiamo alle megacasse quindi probabilmente le ultime due megacasse che aprirò Se non forse alcune delle ultime insomma Andiamo ad aprirle speriamo di trovare qualcosa ragazzi 6 skip attenzione 6 skip Frank, Corvo, Rosa, Eugenio, Pam, attenzione Abilità stellare di Beryl Dopo aver usato la super Beryl subisce il 25% in meno di danni per 2 secondi va bene Non ci dispiace abbiamo anche la seconda 5 skip va bene dai ci può stare Comunque una abilità stellare l'abbiamo trovata Potenziamento per Bea Signori apriamo la prima cassa Omega io non so minimamente come funzioni Non ho mai visto nessun video riguardante questa cassa So che in molti l'hanno fatto ma sono curioso appunto Me lo sono tenuto da parte apposta per farci il video Andiamo Attenzione Tra l'altro è un po' sgranata però ci sta 10 skip Boia raga 10 skip Ok 21 fang 26 pam 30 triscelli 37 edgar 44 il primo Vanno sempre ad aumentare 47 jacky 49 ash 49 pea 51 colette E 67 di semino Ok raddoppia gettoni e gemme Ok quindi è praticamente una box gigantesca Ok Però con l'aggiornamento dovrebbe cambiare leggermente la cosa Ovvero Dovrebbe Dovrebbe Venire aggiunta una specie di nuovo cammino dei trofei Che In realtà non si ottiene tramite i trofei ma tramite delle specie di token Che non sappiamo ancora come si andranno ad ottenere probabilmente tramite delle sfide O facendo qualche obiettivo particolare E questi tokens verranno poi utilizzati per acquistare dei brawler Ovviamente si possono anche acquistare i brawler tramite gemme E questa è un po' la pecca che secondo me va comunque a contorcere un po' la situazione Adesso vi vado a spiegare di che cosa sto parlando Allora ragazzi molto semplicemente vogliono andare a togliere i box opening Quindi andare a togliere la possibilità di avere una probabilità di trovare i brawler Quindi è probabile che ce l'hai come è probabile che non ce l'hai all'interno della box In cui stai andando appunto a cercare quel brawler Quindi io magari voglio trovare che cazzo ne so Voglio trovare EVE Devo aprire casse su casse su casse su casse e sperare di trovarlo Non sarà più così O meglio per i brawler cromatici Quindi i brawler del pass Probabilmente faranno una cosa un pochino particolare O magari essendo che Dopo che si va a cambiare il pass Si possono comunque trovare all'interno delle box Probabilmente andranno ad aggiungerli nel cammino Però Non sappiamo ancora cosa Che cosa succederà Per quanto riguarda tutti gli altri brawler Comunque siamo già sicuri Che verranno probabilmente aggiunti all'interno di questo cammino dei trofei Che non saranno in realtà trofei Ma dei token che andranno poi convertiti per acquistare i brawler Qual è la pecca ragazzi che vi dicevo appunto prima La pecca è che durante Cioè aprendo appunto la schermata dei brawler I brawler che mancano Voi li potrete acquistare tramite delle gemme È stato già mostrato all'interno del video Che adesso vi andrò a far vedere Eccoci qua ragazzi Allora Eccolo qui Questo ragazzi sarà appunto il nuovo cammino dei trofei Come volete chiamarli insomma Vedete che appunto Ci sono queste specie di tokens Che non sappiamo ancora come si verranno Come verranno ottenuti Ve le faccio vedere Ecco qua Vedete per esempio Nita Per sbloccarla cosa vi richiede? 160 token Una volta che lì otteniamo Clicchiamo su Nita La sblocchiamo E ci darà Nita appunto in cambio dei tokens Che non sappiamo ripeto ancora Come si andranno ad ottenere Quello che volevo mostrarvi Io non è tanto questo Quanto il fatto che Si possa andare appunto Nella schermata dei brawler E acquistarli a costo gemme Vediamo se trovo il punto in cui lo mostrano Eccolo qui ragazzi Come vedete Andando nella schermata dei brawler Tutti i brawler che non abbiamo sbloccato Potremmo shopparli a costo gemme Non è che mi faccia impazzire come cosa ragazzi E vi dico perché Vi dico perché Perché ha senso creare un cammino Che vi permetta di andare ad ottenere i brawler Con questi tokens Questa è veramente una figata Però Stiamo parlando comunque ragazzi Di poter shoppare i brawler Nel caso volessimo schipparci Tutta questa cosa dei tokens Ed è un problema ragazzi Perché se uno per esempio Ha La voglia di shoppare Dice voglio Creare un account E avere già tutti i brawler Lo può fare ragazzi adesso In questa maniera Lui si shoppa tutte le gemme Che gli servono Clicca su ogni brawler Li shoppa Ragazzi Quindi molto probabilmente Voi potrete in futuro vedere persone A 100 trofei Che hanno già dei brawler leggendari Dei brawler mitici Che è praticamente impossibile Sono praticamente impossibile Da trovare In quelle Determinate Posizioni E questo ragazzi Secondo me È veramente Molto molto rischioso Da parte della supercell Non lo so Staremo a vedere Un'altra cosa Che vi posso dire È che Ci sta Andare a Togliere Le probabilità Però ragazzi Se vi ricordate La community Era completamente Incentrata Ai tempi di brawler stars Sul Box opening Quindi Ok che adesso Il brawler stars È un po' calato Quindi bisogna fare qualcosa Per rivoluzionare la situazione E quindi Questo è sicuramente Un aggiornamento Molto interessante Però ragazzi Si va molto 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 A rischiare Che Le persone Dopo un po' Si rompano Ugualmente Perché ricordiamo Appunto che I box opening Su brawler stars Hanno fatto la storia Del gioco E in generale Tutti i box opening Hanno fatto la storia Dei videogiochi Mobile Quindi Andarli a rimuovere Diciamo che È un po' Un casino È un po' Un casino ragazzi Staremo a vedere Che cosa succederà Ma in ogni caso I presupposti Per un buon aggiornamento Ci sono Quindi fatemi sapere Che cosa ne pensate Nei commenti E ragazzi Ci becchiamo Probabilmente domani Con la reazione Al brawl talk Che Non dirà solo Questa cosa Che verrà aggiunta Ma probabilmente Anche molte altre cose Che potrebbero Insomma Risolvere la situazione Di brawl stars Che è veramente Critica in questo momento Io ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Iscrivetevi al canale Tivete la campanellina Così non vi perderete Tutti i nuovi video Che ci saranno in questi giorni Nel canale Di brawl stars O qualsiasi altro gioco Vi voglio bene ragazzi Grazie per aver visto il video Fin qui Ci vediamo domani O in questi giorni Con nuovi video Vale ragazzi Ciao 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 Ciao